3 pallini va a riferire la maestra allora è ancora co e che c'è ancora degli step che però non sono quelli dei bambini i bambini il re del rimacca la corona che dei soldi a tutti lui ma vedi che c'è una strazione che dove chiedi però tra quindici anni è simbolici sembra che sia il tuo giorno ecco 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 con ps5 non lo voglio più avere se tirano fuori le texture burrate gliela tira in testa quanta nostra storia delle ssd ok le voglio perfette dalla prima all'ultima c'è qualcosa da dire grazie grazie non credo che sia questo non credo che sia questo più o meno più o meno il rallentatore loro la fisica non interessa hanno una gravità speciale tutta loro non credo non credo ma che stessa è una X ma che stessa è una X ma che stessa è una X cosa è in mezzo all'acqua che cattivo ah c'è sempre queste vite non credo che non credo non credo non credo non credo non credo Sì, ci vediamo! Ancora? Eh, oh... Zona X la mette qua, e poi è lì Boh Qui siamo messi Iniziamo con questo Boggy sovrano Esemplare alfa Di un branco di Boggy Andossa una corona giocattola raccolta nei bassi fondi Nota che con gli aculi sulla schiena può attaccare anche con la magia Si sistema facilmente dopo aver subito una determinata quantità di danni Ok, bisogna picchiare ancora un po' E' in grado di potenziare 6 i suoi simili ed è preferibile colpirli quando è privo di potenziamenti Quindi è meglio attaccare gli altri E anche questo al... Al ghiaccio Au No, eh... Crio... Sì, ora andiamo giù pesante Vediamo cosa gli fa, eh Perchè 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 Continuare a curare, guarda quanto si è già maxato Vabbiamo un mutismo da faglia quello la Aspetta, aspetta, aspetta Via Beh ci salta in testa Allora Allora facciamo un'altra Dai No, come non è Dai No Ok, arriva assoluto adesso Tensiona Ah, stai sentendo la tensione Come si fa così? Come si fa così? Come si fa così? Non ho capito Eh, ci sta lanciando la lentezza Ce l'ha lanciata la lentezza Troppo distante? No, per un millimetro No No Eh, la vita a limite C'è, sale o no? Eh, stai facendo una qua? No Eh Però sono più veloce a volte a camminare Mi sa che caricamento Eh Perché sei in casa stavolta? Ah, perché non è loro Sono i bambini Ah, stai facendo la lentezza No, non è anche la lentezza Oh, stai facendo la lentezza Ah, stai facendo la lentezza Eh, stai facendo la lentezza E' sicuramente E' sicuramente A meno 3 euro Ok Oh, se solo. È più facile da più facile. Sono sempre inizia, cercando nuovi avventure, cercando nuovi sogni. All'albero cercando di fare le vivere di tutti i loro un po' più meglio. Cosa ho cercato di sicure che non si stacchino e si stacchino. E quando si finalmente lo faccio, io aiuto a loro tornare. Hmm. Significa che è complicato. Ha, a volte è. Ma voglio che i bambini sappiano che fino a che si possono stare sui due piedi, che sono qui per loro supportare, cuore per loro, cuore per loro, cuore per loro. Che, anche se non ci sono realmente relazioni, siamo ancora una famiglia. Una reale famiglia, in tutti i modi che importa. Se posso fare questo per loro, allora, beh, potrei fare questo mondo un piatto migliore. Lo so che sei. Il mio precedente mi ha insegnato tutto quello che ho conosciuto. Solo ho prenduto la sua torta, e riuscimo con la sua, credo. Ehm, non che sia qualcosa di vicino a quello che era. Biggs è uno di un tipo. Oh no! Ho completamente perduto il tempo! Hai un po' dove devi essere? Più come un sogno che ho bisogno di riuscire. Grazie di nuovo per la vostra aiuta. Il cagnolino a proposito. Quello che c'erano anche le... No idea. Grazie di nuovo per salvare il nostro hideout dal King. In volta, lascio tutti a sapere che voi potete partire nel game, come specialmente, se vuoi sapere più, allora venite al hideout. Quella è la mazza, ce l'ha lei. Un effetto calamita, cavolo no? Oppure appunto, dovrei poterlo selezionare dal... Vabbè, se lo vogliamo. Vediamola, vediamo che cos'è. A proposito... Vediamo che cos'è... senza fisica però ma non ha alloggiamento delle materie dobbiamo lasciarlo su e vediamo devo stare qui a uscire da qua 50 vediamo per curiosità a vedere se hai alloggiamento delle materie qua mi sbaglio sempre una volta si fa col triangolo una volta non si fa perché se per esempio avesse altri alloggiamenti delle materie però costa un botto dobbiamo mettere almeno questo dovrebbe dire di dagli attacchi base qua invece cosa abbiamo punti vita punti vita danno critico più 25% proviamo potenziarsi uno per l'altro e basta ok ho fatto solo che casino ma ricaricante cos'era ah ok facciamo un ordine ingis quindi un ardente un'allacciata dovechera sull'altro e una galvanica può anche una curativa non sarebbe male in realtà anche su di lui mettiamo quattro elementi base lei si può potenziare no poi è meglio che gli mettiamo un'altra anche lei un'altra stanno salendo comunque quelle degli altri personaggi ok bene bene salendo salendo devo fare più spesso se salendo salendo se è comodo anche se un po' troppo pochi però perché se salendo io io che devo registrare se no problemi qualche tipo se uno gioca per i fatti suoi può anche usare un save anche se io preferirei una divisione a capitoli in modo che uno se vuole si rigioca un capitolo per esempio quindi per esempio ogni capitolo ha un save master diciamo no ok no Questa è la quest ingranaggio magico e punteggi minimi base proprio vediamo cos'è distruggi più casse che poi entro il limite e vinci superando il punteggio minimo richiesto la resistenza l'effetto ai punti delle casse variano a seconda del tipo scegli cosa ti conviene colpire e mira il punteggio più alto ok cioè vuol dire che colava le 1500 però è chiaramente enorme quindi è più resistente ah si rompa il nego c'è qualche rumore del legno anche c'è un magazzino a un posto questo qui parerà sì ma ti rompi o no però forse possiamo usare l'abilità vai mollami ah si perché non corre allora dai l'abilità colpo da contro ordine del cavolo vai contro ordine cambia assetto di combattimento e colpisce va bene va bene vai che mi appassionano queste cose c'è il tempo qua ah ok c'è ancora anche questo forse questo però è sprecato perché già si stava rompendo anzi anzi c'è un qua ok bene l'abbiamo beccato eh meno questo ok vabbè siamo su un metal wow vabbè con le squadre di legno non ne fate fuori neanche uno di scatola ok ok medagli amoguri va bene eh perdiamo le abilità eh quindi non abbiamo la visione estremate con questa non è in massimo e se che la usiamo anche se io la uso un po' in anticipo ma serve a usare più verso la fine cioè quando è già quasi stremato oh vabbè tanto andiamo avanti così allora cosa che c'era serve anche andare dal Turk però vorrei che possa un boss cambia zona dopo non lo so non credo vediamo un tanto questo anche perché più di tanto sembra che non ce ne siano di questi quindi almeno facciamo questo poi vediamo la fascia della signora l'altro segno Lupin Robin Hood e noi dovremmo aiutare te magari sei tu magari andiamo a denunciare te cosa ne dite? è lui vero? indagine questo è usato a dire ma è il manco un dito è usato a dire Ma non abbiamo questo qua? È caldo! No, Hobbit! E' super forte! E' sembra abbastanza utile. I figli hanno parlato di te. Il difendere del segreto Eidout. E ora il hero della Leaf House sta aiutando il daily buzz a guardare gli agenti del segreto. Sono? Eh, diamo un'informazione sbagliata, non so. Ma i piedi ce li ha piccoli, anche se però c'ha la forma verso l'alto. Ah, diamo... Noi? 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 Sì? Adesso deve anche tornare alla chiesa? Dov'è? Se no, non è più indicata? beh direi che potrebbe essere l'occasione per andarci povera bambina basta e mazza non si può vedere all'inizio fa danno evidentemente anche quella abilità che ha sembra un'abilità per far danno vedremo il sociale contro attacco eh sì sì il punisher mode che non ci fa vedere in teoria è sempre quello ok siamo usiamo un punto più o meno no 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 Un nemico Volo di fenice Vediamo se ci fa andare Magari vediamo qua per niente Un antidoto Però tornando al discorso della PS5 Io continuo a trovare Ok ci fa andare Quanto pare Trovo assurdo Trovo veramente assurdo Dare una console con 800 Qualcosa Gigabyte di hard disk Cioè minimo 2 tera dovresti dare Proprio senza neanche dubbio Ci sono giochi come Red Dead Come Modern Warfare l'ultimo Che occupano da soli Più di 300 gigabyte E hanno il multiplayer Soprattutto Modern Warfare Rischiare installato un anno Quindi non è un gioco che io dico Ok stavolta lo disinstallo No Cioè come cavolo fai a pensare Poi avranno le texture più grandi E' veramente una cosa assurda Venuti in mente questo Perché Posso camminare Perché sennò Sennò è un sacrilegio Ehm Vediamo Dai 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 Allora Ma chi sepa che Viene a tornare dopo A meno che non c'è una missione Poi dopo ancora qui Materia meditativa Tutto qua Non era quella che Che ceva su Tifa forse Eh bisogna Dobbiamo sbloccare l'alloggiamento Comunque facciamo finta di cambiarla Qua Eh sì Vabbè Ehm Diceva Secondo me è veramente Una cosa Che non dovevano Così vergognarsi A proporla Tra l'altro Quella della Della ps4 E' più piccola Beh 850 Gigabyte Ora Bisogna capire se uno Ha dato i dati Ehm Senza sistema operativo E se magari E sono tutte e due Anteramane Ma praticamente diventano Tutte e due Da 850 Perché c'è magari I 100 C'è un 100 giga Di sistema operativo Frontend E varie tool E varie tool Eccetera eccetera Che sono integrati No Quella parte social Eccetera Qua Io comunque Ripeto Oh Dicevo Due tera Basta Posto Anche perché Sembra che si possono Espandere Ma poi dopo In realtà Lo attacchi Ma non lo attacchi Cioè non è come Quello interno Interno Ok Perché non ha La velocità Di quello interno Anche se Quando tu lo attacchi Con le Un NVM Non lo so Ma è mi è lasciato Ovviamente perplesso Quella roba lì Poi Le due console Sono molto simili Ma PS4 Non sa perché Deve rinunciare A qualcosa Qui e là E' bello che sono stati Sono fatte tutte e due Da Rhyme Dissertamente i chip Quindi Perché non sono Non devono essere identici Anche si può andare di qua Tra uno e l'altro Questo è un giro Questo è un giro Più interno Andiamo qua Magari fare I teletrasporti Per esempio Tra l'altro Quei incontreremo Vabbè Ce l'abbiamo Già il nostro amante Ok Come è? Non era visualizzata Vediamo Tutto Oh manca qualcosa No? Vabbè Ok intanto Andiamo avanti Stasi Aiuto Penso che sia di qua Ribeccheremo No Poi è chiuso Poi è chiuso Mi sembra Prendiamo questo Ah ok Cioè Ha cambiato a set Quindi dove Praticamente c'è Nessun E quindi bisogna Farlo da vicino Questo Sennò E' interessante Stacola Oh no Questo Sì sì Allora 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 Grazie.